Buon ragazzi, buon modo d'è e bentornati incredibili sul Zelle Zone Zero dove oggi esploreremo, conquisteremo e testeremo la nuova poliziotta Curvy, mamma mia! Allora ragazzi, sto registrando un pochino di video in questi giorni proprio perché mi sto per chiudere finalmente nella Blind Run di Elder Ring e quindi volevo registrarmi oggi un Zelle Zone Zero extra perché è appunto appena uscito il banner della poliziotta la nostra squaletta sexy ci saluta e purtroppo non sono riuscito a averla ragazzi, ma io ve l'ho detto il mio culo me lo sono giocato per tutto l'anno sul sesto episodio di Putering Waves e quando uscirà capirete quindi io credo che la mia fortuna con i gaccia l'ho persa per sempre penso era molto prevedibile che Hellen Joe non la droppassi quindi dovrebbe essere garantito il 5 Stelle nuovo incredibile è anche vero che giustamente nella 1.1 mi pare che ci sta la robottina che è simpatica e una specie di succubesus che è molto molto spicy però questa poliziotta ragazzi io ve la faccio vedere ragazzi io credo che quello che la Mioio abbia fatto con questo personaggio non l'abbia mai fatto penso neanche con Genshin perché Honkai non ha bisogno ragazzi ogni trailer di Honkai il personaggio vende su Genshin dipende dai casi con questo personaggio Zuu e Yuan hanno fatto qualcosa di incredibile perché quando era stata annunciata Hellen Joe la squaletta tutti volevano puntare alla squaletta ragazzi per ovvi motivi è super waifu è fortissima a me avrebbe fatto comodo perché avevo entrambi i personaggi freeze avrei potuto fare un team mono freeze incredibile però la Mioio ha detto aspetta tutti puntano sulla squaletta come facciamo a vendere questo personaggio incredibile che forse è anche più forte di Hellen Joe semplice è cominciata a uscire tipo due settimane fa ormai una cinematic di lei dove a un certo punto lei tipo si stoppa che io penso sia una cinematic in game quindi prima o poi la vedremo anche noi si stoppa di colpo si piega un attimo da quel frame dei suoi glutei assurdi da questa bella pesca rotonda che ha invaso il web tutti quanti ora sono in fissa per questo personaggio se pazzicate sui social ragazzi mi capirete perfettamente ma io non sto scherzando le gif e le immagini del suo culo sono ovunque ragazzi quindi non potete capire quanto la gente si è impazzita per questo personaggio infatti sta vendendo molto bene in sole 24 ore incredibile tra l'altro dicono che è fortissima quindi io direi di partire subito testando questo personaggio incredibile che vi dirò non ero molto in hype ma adesso sono curioso di provarla ragazzi assolutamente da quello che ho capito a lei funziona che prende stack di proiettili sus e quando hai quei proiettili sus spari fai dei danni assurdi ecco il motivo per il quale la community come dire summonerà per questo personaggio ragazzi come vedete è una motivazione molto importante ragazzi molto molto importante però a parte questo adesso vediamo un po' di gameplay ok è velocissima wow ok fa danno la signorina e vedete quei puntini arancioni sotto la sua immaginetta quelli sono i colpi sus ragazzi fa dei danni assurdi o li sto guardando soltanto io ragazzi guardate il danno per una volta non guardate quell'altra cosa ragazzi è di una velocità assurda guardate quello che fa oh oh ma lo sai che mi sta piacendo tantissimo forse mi diverte più di Ellen Joe e che questo personaggio non ha tanti team facciamola ulti wow no 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 fatemi usare lei mi prego wow ragazzi fa dei danni che sono qualcosa di imbarazzante abbiamo tutto carico vedi se tu ti carichi quella a fare è fatta praticamente wow guarda quanto è veloce e poi a oe vedi fa dei danni assurdi già è di nuovo carica ragazzi voglio provarla ancora mi piace da morire wow 15.000 ragazzi mi pare che fa dei danni importanti 25.000 a botta wow ragazzi non so se state vedendo il danno ragazzi posso dire che mi fa impazzire spara cioè ragazzi vabbè complimenti signorina complimenti posso dire che mi fa impazzire il suo gameplay è veramente 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 figo ok ragazzi tanta tanta roba la nostra simpatica curvy poliziotta veramente notevole allora ho sbloccato due cose sus infatti ce le facciamo subito partirei subito con l'exploration nuove e ci facciamo anche le altre io ho portato i personaggi tutti e tre al 20 con le passive al 2 e le armi al 20 quindi secondo me dovremmo farcela incredibile comunque ragazzi tutto quello che guadagno lo cercherò di spendere in assoluto nel banner della nostra simpatica curvy poliziotta perché ammetto che potrebbe regalarci forte emozione a quanto pare oh finalmente dei nemici diversi sto notando che il potenziamento sus ha dato soddisfazioni ragazzi dai dai fanno molto più danno di prima meno male dai 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 ok vai socato ragazzi socato fa del danno assurdo comunque cioè se socato fa la combo e lo segue il lupo ragazzi sono dei danni veramente importanti ragazzi molto bene ok siamo a livello 18 ah non abbiamo preso 3 stelle perché ci manca da collezionare un coso vabbè non l'ho proprio visto ok volendo ne abbiamo un'altra oppure abbiamo combat che dite facciamoci un combat così abbiamo fatto uno e uno facciamo questo dai mi servirebbe qualcuno che me li metti insieme capito quella è una cosa che avrei bisogno un personaggio tipo casua che mi metti i nemici vicino quello ancora non ce l'ho chissà se lo metteranno mai non so neanche se c'è un personaggio che fa così che fa crowd control come dire ecco qua lei un pochino lo fa crowd control ecco qua ah dobbiamo andare qua ok portalino ok dai quando vai in modalità ghiaccio il nostro luporto fa danno dai eh ragazzi non ce l'è per nessuno quando vai in modalità asus dai boss in arrivo dai facciamo un po' di sokaku damage facciamoli la ultima ragazzi sokaku è assurda comunque cioè fa veramente danno importante cioè non dico che faccia più danno di tutti quanti sokaku ma sta molto all'ora i classici 4 stelle che fanno più male dei 5 stelle ragazzi oh ragazzi sokaku fa sempre più danno di tutti 2150 ma com'è possibile che c'ho sokaku così forte ok che c'ha l'arma 4 stelle e gli altri 3 stelle però è assurdo allora abbiamo sbloccato qualcosina prendiamo tutto ragazzi abbiamo bisogno di tutto per fare dell'esamo incredibile allora andiamo un attimo fuori mi dice che c'ho un sacco di missioni secondarie sus andiamo un po' a vedere ah questo non ve l'ho fatto vedere perché l'ho sbloccato off camera mentre farmavo e per portare i personaggi al 20 questo coso praticamente ti dà delle missioni se tu le fai ti dà ricompense ed è tipo un mezzo poliziotto mascotte e si chiama officer miu miu in Giappone hanno mascotte per qualsiasi cosa quindi era ovvio che mettessero una mascotte gatto poliziotto ragazzi mi sembrava abbastanza ovvio cioè praticamente fai una missione secondaria e già a notte è divertente questa cosa e ci facciamo un pisolino ragazzi la nostra routine è molto semplice in questo gioco cioè risolvo un problema vado a dormire risolvo un altro problema vado a dormire ragazzi dorme più di me sicuramente è bello cioè dormo 2 ore a notte lei si farà al minimo 10 ore di sanno al giorno cioè credo che è sveglia è attiva mannaggia ok dobbiamo riguidare la macchina verso un posto sus oh area nuova vai tra l'altro ho scoperto avete presente che nell'altro episodio avevamo sbloccato quel posto sus con quelle due signorine incredibili che io vi dicevo ma che bisognava fare lì ecco in quel posto bisogna farmare i materiali per portare i personaggi su di livello ecco fatto abbiamo risolto anche questo mistero sus questo è il più grosso di tutti di queste aree sus ci sarà il boss della vita qui secondo me ci lavorano l'orso la tipa con capelli rossi questa rei sembra un personaggio che in futuro potremmo usare guarda che design assurdo ho letto tipo un'intervista della Mioio che hanno detto che appunto miglioreranno questa parte di gameplay dove devi muovere il pupazzetto per arrivare alla meta vediamo quanto meno hanno qua dentro però mi ha consigliato personaggi a livello 16 ce l'ho al 20 quindi tecnicamente non dovremmo avere problemi ahhh sono da solo ahhh infatti vedremo il tasto per per cambiare personaggi invece no ok vabbè beh è carino che ci stanno pure i livelli in cui stai da solo c'è bossata dai lupo dai ecco qua come sta andato ecco qua colpi di ghiaccio e andato ok adesso Sokako fa parte del nostro gruppo si e adesso la situazione cambia eh qua è tutto distrutto ragazzi mi piace questo luogo sus per fare questa missione mi piace mi piace allora io devo andare a eliminare subito questo affare che mi sembra pericoloso vediamo subito quell'affare ecco ok questi sono morti andiamo a eliminare quello questo non combatte ragazzi un po' stupidino ok vabbè ok ok gagnolone incredibile eh eh come se duro eh vai giocavo ecco qua e te pareva? mi sa che succede qualcosa di brutto ragazzi mi sa che ce n'è uno grosso ragazzi succederà qualcosa di terrificante mi sa ah ecco potevo aspettarmi tutto tranne che avessero reso una gnagna anche i nemici ragazzi complimenti beh questo affare è grosso non so perchè sembra un mostro uscito da un Kai Sus guarda che brutta sta zanzara Sus ah beh ragazzi lei è tipo fortissima lei dicono che è uno dei personaggi più forti del gioco non si sa quando la metteranno in game sembra Yaka lei più o meno se giocate a Genshin mi capirete però lei è fortissima a quanto pare ecco lei su un mono era tantissimo per lei aveva preso S va bene buono adesso abbiamo di nuovo Rina in squadra quindi tutto dovrebbe tornare come prima ecco qua lei è secondo me uno di quei personaggi che più vado avanti più diventerà fortissima perchè adoro come si muove hai capito? è fantastica ok vai facciamo il laurti contro sto coso questo è un attacco che adoro che fa avete visto? cioè fare un danno a O è assurdo dai e iniziamo a fare danni importanti sembra la ulti di Yaka ma è elettro è assurdo fantastico quando tu switchi in Rina lei fa quella specie di tornadino elettro ragazzi che fa un male assurdo ok rieccoci qua eh si ci fanno vedere questi personaggi che si sono visti mi pare in un altro trailer vi stavo dicendo lei mi attira veramente tanto mi piacerebbe simulare per lei ma non si sa quando ci sarà secondo me è 1.4 1.5 perchè è fortissima lei ragazzi sarà uno dei craio DPS più forti del gioco troppo forte e mi ricorda molto a Yaka lei wow ragazzi sta per fare una ulti devastante su questo affare wow eeeh vabbè vabbè è overpower veramente a livelli mostruosi questa signorina infatti il suo Kaku fa parte della sua squad no non ha sentito niente vabbè c'è sta eh sarà fortissimo quella affare niente c'ha questa specie di spooky coso che gli ruota attorno fantastico signorina complimenti eh allora lui mi pare che usa tipo l'arco potrebbe essere un personaggio interessante però la signorina con i capelli rosa ragazzi non so se vedete bene ma io sono esattamente sotto un panorama non indifferente incredibile eccoli qua i nostri amichetti su vai Sokaku dai troppo forte Sokaku lanciavano i nostri cosini dai mi fa ridere come di lancio troppo forte dai comunque devo dire che i gameplay di questo gioco ci sta eh tanta roba è veramente tanta roba e questo? mai visto sto nemico ma tutti nemici nuovi stiamo vedendo ma che figata che sono questo pare che c'ho la barba mai visto fantastico uso poco le ulti ragazzi devo fare più ulti e che facciamo talmente tanto danno così che non mi viene da usare le ulti wow guardiamo questo fortissimo lui super spooky dai eh questo c'ha due lame fichissimo questo coso fichissimo fichissimo eh questo va tanto padello eh eh questa combo gli è piaciuta dai eh ma dai avete visto scoperto una cosa di Sokaku quando premo triangolo con Sokaku avete visto quelle ondine lei le manda da lontano quindi posso lanciarle pure da lontano fichissimo io pensavo fossero colpi susse da vicino invece fichissimo troppo forte grande fortissimo wow le lancia come un ventaglio fichissimo scommettiamo che Sokaku è ancora top di PS ragazzi però il lupo ci ha andato vicino a sto giro dai livello 19 addirittura ragazzi stiamo facendo una quantità di livelli assurdo ecco come hanno fatto le persone arrivare subito a livelli alti tipo il 30 eccetera ragazzi il gioco ti dà veramente un sacco di punti di esperienza mi sa che possiamo fare due pulline ragazzi eh dai due singole sul banner della poliziotta dai magari la troviamo dai poliziotta susse incredibile no niente un'arma sì ho scoperto ragazzi che questi televisori ti spoileranno quello che trovi quindi se c'è scritto B ragazzi è B per forza dai S un bel S incredibile dai niente B ci ho provato ragazzi eeeh facciamoci una singola qua B niente ragazzi Zenzon Zino ancora non ci ha regalato forti emozioni per quanto riguarda la fortuna nei banner però ripeto è questione di tempo allora ragazzi siamo appena tornati da quel posto susse dove aver combattuto e c'è questo simpatico signore chiamato Enzo con il suo bang bu con un cartoncino in testa va bene ok cosa potrebbe mai andare storto tra l'altro mi somiglia un po' eh mi ha rubato un look questo tizio comunque ah abita qui dentro lui ok ah finalmente li abbiamo sbloccati finalmente ragazzi quante volte vi ho detto negli episodi dove si sbloccavano i bang bu eccoli possiamo usare finalmente i boniglietti in maniera sus ok guarda quanti ce ne sono sono bellissimi io mi ricordo di aver letto che c'è tipo un banner dove si possono trovare i coniglietti che però mi pare che non devi shoppare cioè li trovi e basta piano piano e ognuno ha delle abilità sus ovviamente noi abbiamo il più scarauso perché ovviamente lo possiamo portare su che dite? l'abbiamo portato al 10 però io mi ricordo che c'era il banner proprio loro infatti eccolo eccolo lo vedi? dove si possono trovare un sacco di questi personaggi sus questo è quello ad esempio di Nicole ma posso summonare? ne abbiamo 29 questo mi sembra il più forte di tutti proviamo ragazzi dai facciamone 10 singole vai siamo ridotti ragazzi a fare le summon sui coniglietti perché non troviamo personaggi sus ok abbiamo trovato un'altra proprio di quello che abbiamo già ragazzi siamo fortunati in sto gioco ok abbiamo trovato quello Indiana Jones quello bianco e quello rosso vabbè ragazzi ti è di concludere questa puntata godoso di Zenzo Z abbiamo provato la poliziotta sus abbiamo fatto questa missione incredibile abbiamo fatto un po' di missioni secondarie abbiamo sbloccato i coniglietti vi direi che è venuto un buon episodio di Zenzo Z incredibile ragazzi ragazzi che conosciamo voi e ci vediamo alla prossima puntata uuuu e ci vediamo alla prossima puntata